benvenuti amici di mtb bdc passion continuiamo a trattare un argomento che abbiamo già cominciato in altri video cioè se l'allenamento aerobico è un buon sistema per dimagrire o al contrario come sostengono alcuni fa addirittura ingrassare e vediamo un po quelle che sono le opinioni attualmente messe a confronto abbiamo già detto nei precedenti video che è sì vero che a bassa intensità si usano quasi esclusivamente lipidi però d'altro canto è anche vero che utilizzando allenamenti a bassa intensità e molto prolungati consumiamo una quantità di chilocalorie molto bassa e quindi sarebbero necessarie ore e ore di allenamento per perdere un solo chilo di di grasso ricordiamo poi che per allenamento esclusivamente aerobico dobbiamo praticare un allenamento che sia di bassa intensità quindi al di sotto della nostra soglia aerobica anaerobica e comunque prolungato vediamo quelli che sono in dubbi aspetti positivi dell'attività aerobica sicuramente una riduzione dei fattori di rischio delle malattie cardiovascolari in particolare assistiamo a una riduzione della pressione arteriosa anche senza l'utilizzo di farmaci e riduzione del diabete e miglioramento deciso del profilo lipidico quindi è in dubbio il fatto che l'attività aerobica porti a una riduzione del colesterolo e dei trigliceridi ovviamente è l'allenamento aerobico è fondamentale se ci interessa migliorare una performance di endurance non possiamo pensare di diventare dei grandi ciclisti o dei grandi podisti facendo esclusivamente un allenamento coi pesi l'attività aerobica è una componente fondamentale inoltre ha un indubbio effetto antidepressivo perché porta comunque alla produzione di endorfine così come ci sono indubbiamente degli aspetti positivi dell'attività aerobica come abbiamo appena visto e ovviamente ci sono anche degli incontestabili aspetti negativi in particolare molti autori contestano la reale efficacia nella riduzione della massa adiposa perché come abbiamo già accennato prima l'esercizio esclusivamente aerobico per portare a una significativa riduzione della massa adiposa richiede molte sedute molto lunghe e continuate questo spesso è causa di una mancata compliance da parte dell'atleta perché sappiamo che spesso si vuole risultato immediato ma purtroppo un'attività esclusivamente aerobica un risultato immediato non ce l'ha con la conseguente causa che spesso il cliente che stiamo seguendo l'abbandona completamente il programma perché non vede quei risultati immediati che si aspettava inoltre molti dubbi sono stati sulle sollevati sull'incremento effettivo della performance aerobica in quanto dopo molte settimane di lavoro diciamo sette otto settimane di lavoro si arriva a plateau cioè la prestazione non incrementa più ricordiamo il famoso esperimento fatto da un noto preparatore che aveva dimostrato che per le olimpiadi invernali era riuscito a fare avere e agli atleti che praticavano la discesa libera quindi una delle attività più anaerobiche che esista le stesse performance aerobiche o comunque molto vicine a quelli degli atleti che praticavano sci di fondo che è forse l'attività più aerobica che esista ecco altro aspetto negativo è la riduzione della forza massima esprimibile perché un'attività esclusivamente aerobica indubbiamente ha una serie di effetti negativi sulle fibre bianche che sono quelle che sviluppano maggiore potenza in breve tempo altro aspetto negativo è l'aumentata produzione di radicali liberi a causa del maggior stress ossidativo un esercizio prolungato indubbiamente comporta una maggiore produzione di radicali liberi è altresì vero che però aumenta anche la capacità dell'organismo di eliminarli quindi in parte queste due cose si compensano l'altro aspetto negativo è l'aumentata produzione adrenergica perché indubbiamente un esercizio fisico prolungato ripetuto quasi quotidianamente rappresenta uno stress per l'organismo e quindi la produzione di adrenalina e non adrenalina aumenta assistiamo inoltre a un'alterazione del rapporto fra testosterone e cortisolo questo è un aspetto molto importante perché una riduzione del testosterone a favore di un aumento del cortisolo impedisce la distruzione della massa adiposa e altrettanto impedisce un aumento della massa muscolare un'altra cosa che bisogna considerare è che un'aumentata attività aerobica fa aumentare molto l'appetito pertanto c'è il rischio di andare a mangiare più delle chilocalorie che sono state consumate e quindi anche questo è un aspetto che va valutato un altro aspetto da valutare è la riduzione del GH a causa dell'elevato livello di acidi grassi circolanti che comporta un esercizio fisico di tipo esclusivamente aerobico perché questo porta alla produzione di grandi quantità di somatostatina ecco sappiamo che il GH è una delle sostanze che più di altre contribuiscono al catabolismo degli acidi grassi quindi è chiaro che se questi calano non è possibile consumare massa grassa inoltre il GH è fondamentale anche per l'aumento della massa muscolare quindi anche questo è un aspetto che va valutato ecco facciamo alcune considerazioni su ciò che è vero e su ciò che è solo parzialmente vero rispetto a quello che abbiamo visto allora sicuramente un esercizio fisico di tipo esclusivamente aerobico e prolungato questo è un aspetto negativo di un'attività esclusivamente aerobica e prolungata nel tempo è comunque necessario abbinare un adeguato regime dietetico se si vuole calare infatti è assolutamente sbagliato dire posso mangiare di più perché tanto ho fatto attività fisica diciamo che il 70% del calo ponderale dipende dall'alimentazione e il restante 30% dall'esercizio fisico e quindi è bene informare agli atleti che stiamo seguendo anche semplicemente persone che fanno un'attività ricreativa e voglio rimettersi un po' in forma che è impensabile calare la massa grassa senza un adeguato regime dietetico e puntando solo sull'attività fisica specialmente se è attività fisica di bassa intensità ecco quindi è sbagliato pensare comunque che l'allenamento tipo aerobico abbia solo aspetti negativi bisogna diciamo apportare delle modifiche quindi non utilizzare esclusivamente l'allenamento aerobico ma usarlo in un programma che preveda un certo tipo di piano alimentare e anche degli allenamenti di tipo un po' diverso innanzitutto bisogna utilizzare allenamenti che comportino un aumento del debito d'ossigeno quello che è il debito d'ossigeno lo tratteremo ovviamente in un altro video utilizzare un allenamento a intervalli intensi cosiddetto interval training a cui ovviamente dedicheremo un apposito video alternare allenamenti esclusivamente aerobici e allenamenti anaerobici in particolare allenamenti fatti in palestra con pesi, manubri, sacchi militari le kettlebell e anche i carichi guidati quindi la cosa migliore è fare un po' di uno e un po' dell'altro anche all'interno della stessa seduta però è bene fare prima un allenamento di tipo anaerobico quindi fare prima pesi, kettlebell, carichi guidati, sacchi militari tutto quello che volete voi e successivamente attività aerobica questo perché? perché un allenamento di tipo anaerobico comporterà un attacco alle scorte di glicogeno e quindi se io comincio a fare un allenamento tipo aerobico con scorte di glicogeno già basse ecco che e avrò un'efficacia maggiore quindi sbagliato dire che l'allenamento aerobico fa ingrassare in senso assoluto ma bisogna avere alcuni accorgimenti sia per quanto riguarda la dieta sia per quanto riguarda l'abbinarlo ad altre attività ecco come sempre se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere un like a iscrivervi alla pagina e ci vediamo alla prossima ciao a tutti